Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo oggi super puntata a rockfishing ragazzi Quindi mi raccomando ragazzi superiamo i 120 mi piace per questo video per portarvene degli altri Magari con pesci più grossi e cercheremo di rompere qualche record Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Dunque direi di non perdere altro tempo e direi via con il video Grazie a tutti Vabbè l'ho ciuso così Mi hai sentito proprio bene alla mangiata Guarda la mia testina va, vedi che c'è un po' di sabbia smossa C'è un granso qua C'è un granso Tiene Io no ci sono un po' di qualche roccia qua e là però Niente come grandirsi con nascondigli C'è un po' di qualche roccia qua e là per un po' di sabbia smossa C'è 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 un po' di sabbia smossa è pulita l'acqua se non ci fosse solo sta ondina qua sarebbe perfetto se solo non ci fosse l'ondina qua sarebbe perfetto si l'acqua è super pulita oh ne vedo uno ne vedo uno ne vedo uno è mimetizzatissimo qua sotto è strisciato guarda lo vedi sotto la aspetta fermo 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 no 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 che me lo spaventi piano guarda è sotto l'esca si sta avvicinando no l'ha preso aveva preso fermo fermo si è spaventato aveva preso l'esca a Qua c'è un branco di ciaffa lì Dai tiri o su? No, non è over 30 però ci siamo quasi Quanto è? 20 tata È il più grande che abbiamo Aspetta un momento È comunque un bel pesce 26 e mezzo Preso, no! Madonna Già è la seconda volta che lo slamo No Allora Dai Preso, preso Uhuuu Oii Bello questo è un testone Eh? Sì È un 20 Cioè, no 20 no Eh? Non è un 20 però è bello grosso Guarda che arrivo Non è un 20 ma è grosso Eh Ok È bellino Tra un 18 20 Eccezionale però Guardate in che acqua Un po' di testo Vai 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 Si è buttato subito in Tana Avete visto Dai che facciamo un bel video Seika TB 70 Colazione nera Testina 3 grammi E via Anche questo è bello bello Ciccione pure questo Io ho appena spaccato quindi Anche di merda Quando si dice prendere un granchio Quando si dice prendere un granchio He preso Piccolino un nero Eh? Il giozzo nero È proprio nero Quello è al TB 70 Colpisce vediamo il disco, vediamo vedete che bocca che bellissima sì eccolo ecco perché ecco perché guarda quanto piccolo che era no è grosso, è enorme sta venendo su, è enorme è enorme mi ha tirato una mega mangiata, è enorme è enorme è enorme è enorme è enorme è inviantato? sì, sì, ma mi ha tirato una mega stecca rotto eh sì, ho tirato un po' di più e si è rotto grattava sulla roccia recupera un po' guarda quanto mi ha rispasto guarda quanto mi ha tirato un po' di più